benvenuti nel laboratorio del golosia noi abbiamo deciso tra i dolci tradizionali reggini di rappresentare il torrone morbido e adesso vi faremo vedere la lavorazione in questo momento stiamo riscaldando il miele incorporiamo il miele già riscaldato precedentemente questo passaggio durerà più o meno una mezz'oretta il tempo che si amalgami bene lo zucchero con il miele noi utilizziamo mandorla di avola perché rilascia degli oli particolari misceliamo sia la mandorla che il pistacchio sono importanti i tempi della tostatura in modo tale che poi nel risultato finale ci sia un crunch perfetto ora stiamo incorporando l'albume insieme al miele appunto per creare l'impasto e rendere poi il torrone morbido ora incorporiamo l'olio essenziale bio all'arancia perché oggi stiamo facendo il torrone morbido all'arancia e il composto in questo momento vediamo che è pronto per essere amalgamato con la mandorla e i pistacchi ora incorporiamo le mandorle con il pistacchio la qualità del torrone si vede anche dalla percentuale della frutta secca che è utilizzata all'interno intorno al 60 per cento tra mandorle e pistacchi ora togliamo il torrone dalla torroniera per poi metterlo nei telai e lo stendiamo in modo tale che abbia una struttura omogenea quindi tutto uguale quindi nonostante sia artigianale dobbiamo cercare di essere più precisi possibile attendiamo fino a domani in modo tale che si stabilizzi poi domani faremo un'ulteriore spianatura come vedete la distanza tra le mandorle e pistacchi e il nostro composto è veramente pochissima quindi vuol dire che il torrone ha un'alta percentuale di frutta secca vedete anche come è flessibile la texture in questo momento è perfetta e possiamo procedere al taglio ora stiamo tagliando delle barrette di larghezza 3 centimetri che diventerà poi una barretta da 115 grammi e in questo momento stiamo velando il nostro torrone con del cioccolato bianco in questo caso ma si poteva anche decidere di velarlo col cioccolato fondente quindi torrone per tutti i gusti e per tutti i formati oltre al mignon le varie barrette poi le scatole sacchettini e alla fine la nostra barretta da un metro